Stasera aveva Ibrahimo, c'era Boatena, la Sendolf, la Cassano, la Bambombe... I senatori! E la cosa che secondo me è preoccupante, Massimiliano, è che dopo due mesi di attività si sente dire che Milano è stanco, che Milano ha un sacco di problemi fisici e che non può fare più di questo. Ma è proprio così! Ma chi è che l'ha detto? Scusa, ma chi è che ha detto questo? No, noi, noi, noi qui! Ma Massimiliano! Tutte le volte che parli dici le cose al contrario. Ho solo detto che stasera la Juve... Massimiliano, scusami, noi qui... No, ora parlo io! Ma sì, ma l'abbiamo detto noi qui! Allora parlo io, se no per la prima volta vado via. Allora ho detto che la Juventus ha meritato, Milano ha fatto una brutta prestazione, ci sono molti meriti all'Uventus, è normale che ho messo in mezzo che giocano sempre stessi e ci può stare un po' di fatica. Alla fine, con un po' più di fortuna, potevamo portare a casa il risultato di pareggio, non è stato così e ci sono i meriti della Juve. Punto e basta. Allora aspetta, chiariamo, chiariamo, così poi andiamo avanti con le considerazioni. Massimiliano, Paolo... No, è finito, no, 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 no. Perché non c'è niente assolutamente preoccupante.